Ulele, ulala! Siamo arrivati! E dopo aver installato 5.000 euro di accessori nell'ultimo episodio, oggi vi mostro cosa ha fatto Spark nel frattempo al KTM. Un progetto special di questo calibro ha bisogno di uno scarico dedicato. È due settimane che hanno il KTM qui dentro, hanno rilevato curve, preso i diametri, fatto i raccordi e sì, è tutto pronto. Raga, non avete mai visto uno scarico così su un KTM 530, ve lo assicuro, è il più figo che abbia mai visto e io non vedo l'ora di dimostrarvelo. È là dentro, stanno finendo le ultime saldature. Vi mostro cosa stanno facendo. Che bomba atomica, raga! Ve lo aspettavate a due uscite? No, sicuramente! E invece Nozzy Style ci ha pensato, insieme a Spark. Boom! KTM 530 con doppia uscita, stra-racing, stra-cattivo. Tra l'altro questo terminale è provvisorio. Non potevo certamente spoilerarvi tutto il progetto così d'emblè, raga. Al motosalone vedrete qualcosina di differente sul terminale. Non che questo sia brutto, anzi, molto figo, molto racing, sarà simile ma con qualche tocco spicy. Ci vediamo al motosalone l'11, il 12, il 13 novembre, dove troverete la signorina con un abito nuovo, perché metteremo le grafiche aggiornate, ovviamente, e con questo dettaglio. Sono sicuro che l'idea della doppia uscita piace anche a voi. Non si vede spesso sui motard, la rende decisamente più cattiva e soprattutto diversa dalle altre. Un tocco Nozzy Style che lascerà il segno nel mondo motard. Non che non l'abbiamo mai fatto, attenzione, non è che ho scoperto l'acqua calda. Però, cioè, non ci pensa mai nessuno. Pochissimi motard hanno queste uscite, ma a me fanno impazzire. Oh! What the... Madonna, fa spavento, eh. Come potete vedere, i raccordi non sono super speculari. Questo lato qua è quello originale, del passaggio originale. Questo, invece, è completamente ricreato da zero dal signorino qui. Complimenti. La tabella di marcia fa effettivamente spavento, perché abbiamo due settimane al motosalone. Due o tre, praticamente. Stiamo chiudendo l'F3 prototipo, il signorino qua dietro, tra Stylady e altri progetti che non avete ancora visto di alcuni clienti. L'obiettivo, però, di questo video è certamente installare tutto lo scarico sul KTM, ma anche accenderlo. E vi assicuro che non è scontato. Manca il carter frizione di SM Project. Attaccare i freni, inserire un po' di benzina e provare ad accenderla. Tutti step molto semplici da dire a video, ma realmente, raga, qua dietro c'è tanto lavoro ancora da fare. Ho un po' di ansie, spero che domani con Matte riusciamo ad accenderla. Che sarebbe un aggiornamento super live, dato che questo video lo sto registrando due giorni prima che lo vediate. Oggi è mercoledì e qua da Spark si fanno figate. Ah, ovviamente non l'ho detto, raga, è tutto in titanio, chiaramente. Adesso lo vedete colore metallo, poi diventerà tutto blu, viola, azzurro. Che esagerazione. E finalmente non vedevo l'ora di dirlo, l'abbiamo caricata sul furgone. Ora vogliamo in atelier, perché ci aspetta Matteo, per sistemare le ultime cose e accenderla, raga. Proviamo a sentire che sound fa, io non vedo l'ora. Non perdiamo altro tempo. Ultimo coffe in azienda e poi andiamo a Bologna. Andiamo a prendere il carene del Meli Monster. Parentesi, è un monster che troverete al motosalone che non avete mai visto, che è di Melania. E vi faremo la sorpresa a rivire l'ufficiale anche a lei, oltre all'F3 prototipo. Ci rendiamo conto che tra 7 minuti capisco se il motosalone sarà una figata oppure no, perché se le carene dell'F3 non mi piacciono, è un delirio. Ma tu no! Pronti per il motosalone. Raga, a questo punto vogliamo in atelier, ci aspetta Matteo, facciamo la reaction. Basta, non aggiungo altro. Oh, sì, bello. Anodizzato nero. Oh, sì, bello, mi piace un botto. Dettaglino Noisy Style, ovviamente laserato, e poi SM Project. Perché il pezzo l'ho fatto loro. Dedicato a noi, perché non esisteva. Se avete bisogno, comunque contattateli, se avete un 5,30. Avrei qua. Matteo che gioco al piccolo chimico. Eccoci qua, la benzina rubata a tutti i clienti Noisy Style. Oh, grazie raga. Lo sai che il punte si abbassa, eh? Ottimo. On. Scarburon. Beh, 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 beh. Burbotta almeno. È un inizio. Adesso sistemiamo un attimo il cavolo del carburatore, perché probabilmente è colpa sua. Regolazione valvola TPS. Manuale d'officina. Strano. Sotto si accendono subito. Ah, io no. Ho preso vita. Oggi, oggi, oggi è il minimo. No, 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 no. Sì, lo si vede accesa. Raga, dobbiamo mettere, mi sa, palesemente di bichillo. Qua sta fumando qualcos'ia, perché se no mi sa che perdo troppo... Dopo sprint. 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 Niente sprint. Dai, attacca bro, aspetta. Sì. No, è giusto. Ah, cosa... Ma guarda, quanto è cattivo questo... Che bello, raga, ha preso vita. Sì, cazzo, sì. Stanno arrivando i tamarri? Gli zanza di Milano. Madonna, ma che violenza. Ovviamente attrezzati di essere di casco, vi faccio vedere la sella in anteprima, anche se non vorrei, ma vabbè, così almeno proviamo un attimo sul viale, come va. Non so se sei pronto, zio, quella sera. Sei pronto? Ma è arancione? Fra. È cantare arancione. Base è tutta bianca, semi il pelle. E poi qua, molto, molto, molto morbida. Dai, su, su. Andiamo, andiamo. Dai, andiamo. Come sempre, test per la scienza. Sembra una pit bike, comunque. Se mi metto così e divento una moto grande, così è una pit bike. Mi piace la sella, raga. Tanto è bella. Posso toccarla? No, 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 zio, ti prego. Scamosciata arancione, cioè. Oh, è giunto il momento. Ormai è un rito per noi. Allora. Hai stretto bene tutte le viti? Come sempre, potrebbe non frenare, potrebbe non avere la frizione, quindi piano. Non avevo più la frizione, 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 raga. Sopravvivenza totale, ma ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa. Allora, a questo punto, raga, io direi che per questo video è tutto. Obiettivo super raggiunto, sono stra soddisfatto. Diamo a sistemarla, però, ovviamente. Frizione, solite cosine strane. Li monteremo, ovviamente, porta-targa, stop e le frecce, perché se no non possiamo girare in strada e non possiamo neanche andare al ciringhito. E poi, ovviamente, carburazione. Farò il rodaggio a telecamere spente, così non perdiamo altro tempo. E poi diamo del gas per fare un bel episodio dedicato insieme a lei in strada. Con un bel video di presentazione. Oh, complimenti, frate. Ottimo mestiere, ottimo mestiere. Veramente good. Ci vediamo al motosalone. La vedrete completa con le grafiche l'11, il 12 e il 13 novembre. In via della Liberazione 15. Tutte le info sono in descrizione, così non sbagliate. Possiamo chiudere questo video? Vado ad editarlo? Let's go! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Grazie a tutti.